Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video State vedendo una nuova inquadratura e una nuova qualità Più crispy, diciamo Finalmente, è tutto merito della nuova Panasonic Lumix G7 Che ho acquistato un paio di settimane fa Ho acquistato anche un adattatore, non un speed booster Un adattatore per le lenti Canon che avevo già Quindi posso usarla a 50 mm, posso usare la 18 e 55 E questo è il primo video che realizzo effettivamente con il G7 Spero che la qualità vi piaccia Ok, senza perdere altro tempo prezioso Io direi di iniziare con la recensione del Samsung Galaxy A20e Mica male come telefono Ok, quindi perché ho acquistato un Samsung Galaxy A20e? Il mio cellulare precedente era un disastro Ok, vi dico questo Era un disastro Era un J4 Plus Quindi dato che aveva la nomenclatura Plus alla fine Diciamo che mi sono gasato un po' troppo E avevo tante aspettative da quel telefono Ce l'ho da un mese perché il J5 della recensione dell'anno scorso Si era rotto, si era rotto lo schermo E quindi ho cambiato telefono Non è che l'abbia preso io però mi è stato regalato da mia zia E diciamo che era diventato davvero frustrante usare quel telefono Per aprire un'applicazione ci metteva minuti No, non dico minuti, sto esagerando Però secondi Ci metteva 10 secondi per aprire un'applicazione Stiamo scherzando Per aprire la fotocamera ci metteva anni Una delle caratteristiche che mi ha colpito maggiormente di questo telefono È che nonostante la grandezza è comunque un telefono compatto E ovviamente quella grandezza è riferito alla grandezza del display È un 5.8 pollici Il display è curvo con una risoluzione a 1560x720 Quindi un HD Plus Gli HD Plus di solito si avvicinano ai Full HD E infatti la risoluzione non sembra affatto quello di un 720x Abbiamo la connettività LTE 4G Connettività Wi-Fi e GPS Nella parte retrostante del telefono possiamo notare due fotocamere E un sensore di impronte Abbiamo la fotocamera principale da 13 megapixel con f1.9 E la fotocamera grandangolare che si trova subito sopra A 5 megapixel f2.2 La fotocamera frontale invece è un 8 megapixel f2 Come processore abbiamo un Samsung Exynos 7 octa-core La GPU Mali G71 MP2 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione Ovviamente espandibile fino a 512 GB Posso dire secondo la mia opinione Che tiene veramente bene l'uso quotidiano Infatti mi arriva la sera con ancora il 37% di batteria La batteria tra l'altro è un 3000 mAh Il J4 Plus aveva una cosa come 3200 mAh Quindi 200 in meno e regge davvero molto bene E gestisce veramente bene le applicazioni Infatti come sistema operativo ha un Android 9 Pie Con il One UI versione 1.1 E torniamo un attimo alla fotocamera Più precisamente al comparto video Infatti si possono registrare video a 30 fps in 1080p E ovviamente per il prezzo la fotocamera principale Non è affatto stabilizzata E possiamo anche usare la grandangolare per registrare video Però per quanto riguarda la grandangolare Perde quei dettagli che vanno a definire la foto stessa E infatti se notate è un po' pixeloso rispetto al 13 megapixel Ma questo non credo sia un fatto di megapixel Ma un fatto di sensore Ovviamente tutti e tre le fotocamere Sia quella frontale che quelle posteriori Se volete fare delle foto e dei video Con una qualità decente Dovete essere in un ambiente illuminato Infatti la luce è la chiave di queste tre fotocamere E della fotografia in generale Fate le foto al buio Mi dispiace Ma non gestisce molto bene le foto al buio E la cosa che mi ha sorpreso di più di questo telefono È che possiede l'USB-C E non è tutto Perché supporta anche il fast charging Potete ricaricare il telefono da 0 al 50% in 30 minuti Ed è una cosa sballorditiva E mi ha sorpreso anche il fatto che il telefono supporta la visualizzazione pop-up delle app Pop-up delle app E ovviamente non tutte le applicazioni lo supportano Ad esempio Instagram non lo supporta Ad esempio se aprite la schermata delle applicazioni aperte Potete fare una lunga pressione sull'applicazione stessa E vi uscirà una tapparella con delle scritte Alcune applicazioni supportano Apri in visualizzazione pop-up E diciamo che questa funzionalità Trasforma il vostro cellulare È una specie di computer In cui potete aprire finestre Ora non so quante finestre potete aprire in una sola volta Però diciamo che torna molto comodo Se dovete fare diverse cose ma allo stesso tempo Sono veramente soddisfatto di questo acquisto Perché davvero il telefono di prima era inusabile Ragazzi si bloccava con qualsiasi cosa Era diventato veramente frustrante usarlo Quindi l'ho venduto E mi sono preso il Samsung Galaxy A20E Si tratta di un ottimo telefono per chi magari vuole entrare nel mondo dei telefoni con lo schermo curvo E magari che abbiano buone performance e il sensore E ovviamente anche la doppia fotocamera E perché no Anche a quelle persone là fuori Che vogliono uno sblocco rapido Sia con le impronte digitali Sia con il riconoscimento facciale Sì Supporta il riconoscimento facciale Vabbè Tutti i telefoni Samsung supportano il riconoscimento facciale Però diciamo che Samsung ha migliorato questa funzionalità Anche nel corso degli anni È la prima volta che mi fido del riconoscimento facciale Perché non mi sono mai fidato di quello di Samsung in particolare Perché veramente è una cosa lentissima Specialmente nei vecchi cellulari Vabbè Digressioni a parte Il riconoscimento facciale funziona davvero bene? Nel Samsung Galaxy A20E Ok per funzionare funziona Delle volte si incasina un po' a riconoscere le facce Nei luoghi in cui c'è scarsa luce Perché appunto come detto prima Più luce c'è meglio è Quando funziona è davvero veloce Ovviamente non a livello del Face ID Per favore Questo telefono l'aveva preso mia madre in verità E per due giorni lei non l'ha usato Perché ce l'avevo sempre io Allora mi sono deciso finalmente a vendere quello di prima E a prendermi un A20E Che ho trovato in sconto su Amazon Però il colore nero l'avevano già finito Ed era salito tantissimo di prezzo Allora ho preso il Coral Un colore bellino direi Però diciamo che non fa per me Non fa assolutamente per me Io sono uno che va molto sul semplice E sul meno sgargiante È Meglio è Però oggettivamente il Coral È davvero molto bello come colore Ok ora proseguiamo con la pagella di questo telefono Perché sì Ora faccio anche le pagelle Valuto Come un professore Segnerò fino a un massimo di 5 stelle Per ogni caratteristica Che possiede questo telefono Al display assegno 3 stelle e mezzo E attenzione non è assolutamente un voto basso Però di display davvero buoni Ne esistono davvero pochi Anche perché questo non è un Super AMOLED È un IPS E quindi Già lì 3 stelle e mezzo Per le fotocamere assegno 3 stelle Perché davvero al buio Non si possono Non si possono usare Specialmente Il grande angolare E mi permetterei anche di dire Che la fotocamera Anteriore Del J5 Del 2017 Era un pochino Meglio Della fotocamera anteriore Della 20e Per la connettività Anche se non abbiamo un dual band Io darei un voto Di 4 Perché non ho avuto grossi problemi Con la connettività Perché il J4 Plus Che avevo prima Faceva davvero fatica Ad arrivare Là Col segnale In salotto Dove ho il modem E delle volte si disconnetteva Da solo 4 stelle Anche per la batteria Che dura davvero tanto Come detto prima Vi arriva alla sera Al 37% Do 4 stelle Anche per le performance Perché non mi ha mai deluso Fino ad ora Ancora Almeno 4 stelle Perché risponde Davvero bene Ok Ok l'ultima valutazione Ovvero il prezzo Do un 4 stelle e mezzo È davvero sbalorditivo Il rapporto qualità prezzo Che possiede questo telefono L'avrei preso a 144 euro È perennemente in sconto Quindi se lo volete Vi consiglio di approfittarne Dei saldi di Amazon Ora come ora Perché sono andato all'1 euro Ho comprato i prezzi E all'1 euro costava 170 euro 174 euro E ora lo trovate addirittura Anche a 129 euro Questa recensione termina qui Spero vi sia piaciuto E spero vi sia piaciuto Altrettanto La qualità del video Perché Fotocamera nuova Qualità nuova 4K Vabbè Non posso registrare Perennemente in 4K Perché dura davvero poco La registrazione in 4K Dovrei fermarlo E farlo ripartire Tutte le volte E quindi Per oggi Vi saluto E ci vediamo Alla prossima Alla prossima